Il prete e la montagna, testimonianza di don Aurelio Martini, nato a Sempeer, classe 1914, parroco di Vinadio. Ho preso la messa nel 1940. Sono quasi sempre vissuto in mezzo alla gente di montagna. Prima a Valdieri, poi nel Vallone dell'Arma, poi a Madonna Bruna, in Valle Gesso, poi qui a Vinadio. Ero a Valdieri nel 1943, quando è successo il disastro degli Alpini in Russia, la disfatta. E ricordo il via vai continuo nella casa parrocchiale. Padri, madri, fratelli, sorelle che imploravano notizie. Chissà i nostri, ci chiedevano. E noi a scrivere al Vaticano. E il Vaticano ci rispondeva che non era possibile avere notizie. L'illusione era che fossero tutti prigionieri. E si sperava. Poi la speranza è caduta, dopo la guerra. Nel Vallone dell'Arma, a Trinità, sono stato parroco dal 1949 al 1958. Avevo 180 parrocchiani. Già in quei tempi i giovani volevano andare via. Capivano che in montagna non c'era a venire. Anche le famiglie più forti si sono poi smembrate. Una famiglia di Trinità, che poteva vivere bene, c'era il padre, i due figli, avevano 14 mucche, si è smembrata. I due figli sono andati a lavorare alla Fiat. Il padre di 70 anni è rimasto solo. Questo è il discorso dei figli. Se restiamo a Trinità, non troviamo a sposarci. Il discorso del matrimonio è decisivo. O restare celibi, poveretti, e allora si danno al vino. Oppure scappare. Qui a Vinadio è successa la stessa cosa. Dalle frazioni i giovani sono partiti, i vecchi sono morti, le frazioni oggi sono deserte. A Neraisa vivevano 300 persone. St'inverno c'erano ancora due vecchietti, il padre e la madre di Estienne. Oggi questo fenomeno dello spopolamento si sta già verificando nei paesi, non solo a Vinadio, ma a Isone, a De Monte. Noi parroci ne siamo all'atto pratico. Vinadio non ha più di 600 persone contate. Con tutte le frazioni arriviamo a 1000. Nel lontano passato erano 3000. Nel 1969 abbiamo avuto 12 matrimoni. 10 coppie di giovani sono andate via col matrimonio e le altre due coppie non è detto che restino qui per sempre. 7-8 battesimi e 20 sepolture. Se andiamo avanti di questo passo, Isone ha 350 persone, in gran parte anziani e vecchi. Anche là gran sepolture e battesimi pochissimi. Sono 70 i giovani che da Isone vanno a lavorare in fabbrica. Le ragazze alla veste bene, gli uomini alla miscele. I giovani hanno ragione a scappare. Se nel passato la popolazione avesse avuto le occasioni di oggi, sarebbe mica rimasta lassù a vivere sulla montagna più disgraziata. L'autorità arrestì all'esodo e dice fermiamoli. È un principio sbagliato. È un'illusione credere di fermarli. Nelle strade, nella luce elettrica riescono a fermarli. Bisogna aiutare i pochi che ci sono ancora ad andare via. Dove la zona è povera e non si presta a colture valide. Bisogna aiutare ad andare via. Comprare i loro terreni, ricomporre la proprietà e adibirla a pascolo, a rimboschimento. Adesso compriamo miliardi di legname in Francia, legname di alto fusto, abeti, pini, larici e qui potremmo avere tutto foreste. Date fiducia al prete che dà sempre la parola disinteressata. Costruire strade inutili per fermarli? Serve a niente. Serve alle imprese costruttrici, non ai contadini. Ci vorrebbe un po' di turismo, ma qui l'estate è troppo breve. Spegniamo le stufe a metà giugno e a metà agosto le riaccendiamo. È il principio della fine per la nostra montagna. I vecchi ricordano che a Neraisa c'erano 40 scolari e oggi non li abbiamo più a Vinadio, 40 scolari. Chissà tra vent'anni come saranno questi nostri paesi. Ogni famiglia di qui ha uno, due, tre figli che lavorano alla Michelin, alla Cometto, alla Bon Giovanni. I figli restano a Vinadio fino a quando si sposano, poi si staccano, scendono in basso. Cento chilometri di viaggio ogni giorno li stanca. Io penso che anche senza le due guerre mondiali, senza quei massacri, la montagna avrebbe conosciuto lo stesso l'esodo di oggi. Nei tempi antichi questa era una valle aperta, una valle di passaggio degli eserciti stranieri e le popolazioni si erano insediate in alto per sfuggire agli incendi e ai saccheggi. Quanta disperazione nei secoli scorsi. La gente di questa valle imprecava contro Dio e gli eserciti e forse è anche in questa rabbia e in questa disperazione la radice lontana dello scarso spirito religioso della gente di oggi. Qui la religione è nel tradizionalismo di famiglia. Se i genitori sono religiosi anche i figli lo sono, altrimenti no. Dalla parte vecchia di Vinadio, dove vive il vecchio vinadiese, quasi nessuno frequenta la chiesa. Le vocazioni qui sono rarissime. Qui, come in tutta la valle Stura, il seminario della nostra diocesi raccoglie vocazioni in pianura, a Bernezzo, Boves, Borgo San Dalmazzo e nelle frazioni di Cuneo, San Pietro del Gallo, Passatore, Spinetta, dove resiste ancora lo spirito patriarcale, dove la tradizione attecchisce. Qui a Vinadio, nel passato, tutte le sere nelle stalle dicevano il rosario. A Trinità, nel vallone dell'arma, ho tentato di salvare questa tradizione del rosario, ma poi tutto si è perso anche là. Qui la politica è un caos. Nei paesi prevale l'interesse personale, familiare e la politica vera diventa meno che zero. Qui il paese è spaccato in metà perfetta. Due liste. Sei contro sette. E la lista minoritaria ha perduto un consigliere per un solo voto. Si spiega anche così che non pochi comuni da valle Stura hanno dovuto ricorrere ai commissari perfettizi. Qui, recentemente, è venuto il responsabile provinciale della Coltivatori Diretti e ha promesso tante cose. Vi porteremo il commercio, il turismo. Io l'ho invitato a risolverci i problemi terra-terra. L'anno scorso il prezzo delle patate era di 19 lire al chilo. A Cuneo, nei negozi, le vendevano 120 lire al chilo. Qui arrivano i negozianti di bestiame. Sono d'accordo tra di loro, pagano poco le bestie e la carne nei negozi è un prezzo proibitivo. Abbiamo parlato anche delle cooperative, ma la diffidenza del montanaro è infinita. L'anziano non dà fiducia, non vuole saperne. La vita è cambiata, la società è cambiata. Oggi c'è contrasto, rottura tra i vecchi e i giovani. Nel passato la gente viveva e moriva nelle stalle. Ah, sapesse prevosto che fame che c'era una volta, mi dicevano i vecchi di Trinità. A San Giacomo di De Monte c'erano centinaia di persone. Ma dove si mettevano? Ma come vivevano in quelle quattro case? Era una vita? Oggi i giovani guardano l'avvenire in un altro modo ed è umano che sia così. Qui ogni estate arrivano dalla Francia i nipoti, i pronipoti dei nostri emigrati. Vanno a riconoscere i terreni dei padri, dei nonni. I nostri vecchi vivevano qui? Dicono. C'è un vecchio che arriva da Parigi e raggiunge sempre la sua baita. Vede solo più i muri in piedi e attorno le ortiche. È una morte. Soffre nel vedere tanto sfacelo. Grazie.